Buongiorno, sono Silvia Salvatici, sono una storica dell'età contemporanea, docente presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università Statale di Milano e responsabile per questo stesso dipartimento della terza missione. Che cos'è la terza missione? È un nuovo ambito di competenza per l'università e riguarda il rapporto tra l'università e il mondo esterno e in particolare il rapporto con il territorio. In questa cornice il Dipartimento di Studi Storici ha scelto di dedicare una particolare attenzione al rapporto con il mondo della scuola, realizzando iniziative rivolte tanto a studenti e studentesse quanto al corpo insegnante. Per questo abbiamo dato vita a questo ciclo di video lezioni sul tema della marginalità affrontato in una prospettiva di lungo periodo, dall'età antica all'età contemporanea. Ci teniamo anche a sottolineare che questa iniziativa è nata già attraverso la collaborazione con alcuni istituti del territorio e si colloca in linea di continuità con un incontro dedicato alla discriminazione realizzato lo scorso anno. Lascio a questo punto la parola alla collega Beatrice Delbo, responsabile del rapporto con le scuole per il Dipartimento. Lascio la parola alla collega non prima però di avervi augurata una buona visione e auspicando che possano in futuro esserci altre iniziative di questo tipo sempre attraverso un rapporto di collaborazione e di scambio con il mondo della scuola. Buongiorno a tutti, mi chiamo Beatrice Delbo, sono una medievista e insegno presso il Dipartimento di Studi Storici, Storia Economica e Sociale del Medioevo, didattica della storia e ho insegnato storia delle donne e dell'identità di genere. Come ha anticipato la collega Silvia Salvatici, sono il referente del Dipartimento di Studi Storici per i rapporti con le scuole superiori e per questa ragione insieme a lei e con il benestare del direttore di dipartimento che è promotore di questa iniziativa abbiamo organizzato questa serie di video lezioni che come accennava la collega è in stretta continuità con l'iniziativa che abbiamo preso lo scorso anno nel mese di febbraio. Come sapete questo ciclo di video lezioni va dalla età antica fino alla contemporaneità toccando i temi della immigrazione, della storia di genere, quindi delle donne e dei profughi da varie prospettive che sono tutte prospettive di storici e storiche ma che studiano secondo metodologie e settori disciplinari differenti. Per cui mi unisco all'augurio di buona visione di queste video lezioni sperando che insieme a voi se ne possano organizzare altri cicli anche in base alle vostre esigenze da qui per i prossimi anni. Buona visione!